Due parole sul futuro dell'Assemblea Nettese. Io gli auguro un gran bene perché insomma quando uno è a questa età sogna ancora delle volte giocando in Assemblea Nettese che pace mi porta le scarpe perché non può augurare che è bene. Chiunque siano le persone l'Assemble è sempre l'Assemble, per me perlomeno è così. Io abbiamo assistito nell'ultimo anno diciamo a questa promozione che già riporta diciamo in un limbo che ancora non è professionistico però già è un campionato diciamo abbastanza importante. E' chiaro che il tifoso San Benedettese è abituato diciamo molto 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 bene. Quello che diciamo vorrei che facessero i nuovi è che questa tradizione che ancora oggi dopo 40 anni si mantiene diciamo intatta con lo stesso entusiasmo vada alimentata. Cioè fare tutti gli sforzi possibili per cercare di dare altre soddisfazioni a questi nostri diciamo tifosi perché non solo se lo meritano. E secondo me parteciperanno sempre più in massa se bisogna fare lo sforzo adesso per cercare di arrivare diciamo nel mondo professionistico. E poi secondo me diventa un fatto esponenziale più si va avanti quest'anno bisogna fare lo sforzo enorme e cercare di raggiungere l'obiettivo.